Musica Bentrovati con una nuova puntata di A Tu per Tu, le storie raccontatele voi. Oggi siamo ospiti dello showroom Febalcasa della Ditta Leggeri in zona Città Giardino a Oristano, siamo nella cucina Volumia e parleremo di musica ma non solo con Valentina Casula che è appunto una musicista ma è anche una compositrice e che pensate vive da 26 anni a Parigi. Ciao Valentina! Ciao! E grazie per essere qua con noi. Piacere! Allora io direi prima di iniziare con le nostre domande perché la clessidra sarà il nostro segnatempo, partirei proprio dal fatto che vivi a Parigi perché mi ha affascinato molto l'idea che tu sia in una città così bella e che però insomma bene o male torni insomma a trovare parenti e amici un po' di stanno abbastanza frequentemente. Come sei finita lì? Io a Parigi ci sono finita un po' perché in realtà 26 anni fa era una città, però penso che lo sia tuttora, un po' l'epicentro, un po' la città in cui tutti i musicisti di jazz e non solo convertivano, no? La città europea in cui succedevano tantissime cose e quindi attratta dal desiderio di partecipare un po' e di esplorare, di imparare e di partecipare a questo movimento, sono finita lì. Sono finita lì con un sassofono e una valigia. Tipico film, ma non me la vedo. Esattamente. Pensando di stare un mese e invece quel mese poi è durato. È una storia che mi raccontano le persone che vanno fuori e conginevano tutte così. Vero. Devo stare un mese e poi però ben lì, sono contenta. Senti quindi passettino indietro, sassofono, musica, come nasce la passione per la musica, a chi ti ha, come dire, punto per arrivare a farla diventare la tua professione. Bene, la passione per la musica è una passione che ho ereditato un po' dalla famiglia perché in realtà mio padre e anche mio zio, che ora non c'è più, che era trombettista, insomma hanno condiviso tantissimo con me e con le mie sorelle questa passione. Sono dei melomani praticamente, quindi si ascoltava tanta musica e sì, si produceva musica in casa, per cui io e le mie sorelle abbiamo avuto tutta la possibilità di studiare musica. E hanno proseguito anche le tue sorelle? Quasi tutte, tranne una. Ah però, quindi. Quindi adesso le mie sorelle fanno le violiniste. E avete mai sonato insieme, così per curiosità? Beh, all'epoca succedeva più spesso. La domenica pomeriggio di solito ci si riuniva e si formava una piccola orchestra a camera in casa. Bellissimo. Senti, hai studiato in Sardegna o sei dovuta andare fuori per un po'? Ho studiato in Sardegna, ho iniziato i miei studi al Conservatorio di Cagliari, poi siccome la mia passione era il jazz, quindi all'epoca... Quindi vabbè, finiamo prima. Sì, vabbè, non fai... No, 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 no. Adesso dopo un po' ho detto, ma non l'ho girata, scusami. La tua passione era il jazz. Quindi all'epoca appunto il modo migliore, diciamo, per imparare, per esplorare, era andare un po' in giro a seguire appunto i maestri del jazz e quindi mi sono formata. Particularmente? Beh, all'epoca non l'ho seguito direttamente perché era già morto e poi perché era un grande... All'epoca il musicista che mi ha fatto scoprire il jazz è stato John Coltrane. Ah, Coltrane. Però, diciamo, uno dei proprio maestri, se così vogliamo dire, spirituali è stato Miles Davis, proprio per il suo approccio alla musica. E quindi, insomma, questo comunque, il fatto di andare a cercare, cercare anche di formarmi, di imparare, mi ha portato poi ad arrivare anche in America, all'Università di Massachusetts, dove ho fatto un master. Perfezionato, insomma. Perfezionato. Suoni altri strumenti o soltanto il sassofono? No, dunque, attualmente faccio la cantante. Ah, la cantante. È la compositrice, suono comunque il pianoforte, ho fatto gli studi di oboe, insomma, ha diversi strumenti anche per diletto. A me piace moltissimo sentire le storie dei musicisti, perché secondo me hanno sempre un fascino particolare, anche perché, chissà, le persone che hai incontrato, le collaborazioni magari che hai avuto, non so se ti viene in mente anche qualcosa che ti ha particolarmente formato o arricchito, ecco. Beh, le esperienze sono state parecchie, però devo dire che se devo proprio sceglierne uno, scegliere un momento particolare, un momento che mi ha segnato parecchio, è stato quello della collaborazione e dell'incontro con dei musicisti zigani, quindi della Romania e dell'ex Jugoslavia. Con le loro sonorità particolari. Con le loro sonorità che sono particolari, che sono molto potenti, no? E che hanno appunto una musica che... Non puoi star fermo. Che non filtri neanche così, semplicemente con le orecchie o col cervello, ma che arriva dritto al cuore, quindi ecco, l'incontro con questi musicisti e la collaborazione che è durata e che dura tuttora, perché ogni tanto si ritrova per suonare insieme, e con loro anche l'opportunità appunto di girare il mondo con questo progetto, quindi... Quindi bello. So che hai anche all'attivo un disco in uscita... In preparazione. E mi ha colpito, lo dico perché questo l'ho chiesto prima, mi è piaciuto tantissimo l'idea che tu sia tornata in Sardegna per registrarlo e a Cabras in particolare, quindi insomma abbiamo delle eccellenze davvero... Assolutamente. A un passo dal mare, che so che è una delle tue passioni. Esatto. E quindi com'è andata con Andrea Cutri, lo nominiamo, lo so... Andrea, assolutamente, anzi ciao Andrea. E' andata benissimo, allora Andrea è una persona, un musicista straordinario e anche un bravissimo ingegnere del suono, ha uno studio a Cabras che è molto carino, molto accogliente. Lo ricercano in tanti oltretutto. Sì, 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 infatti. E per me appunto il fatto che Andrea fosse, ci fosse... È stato importante. Sì, è stata, mi ha dato l'idea così di registrare questo disco, questo progetto. Che cos'è questo progetto? Qui in Sardegna per la prima volta, in Sardegna, è un progetto di composizioni. Ah, ok. Quindi lo vedremo, lo potremo sentire a breve. Hai mai pensato di insegnare musica? Allora, in realtà io ho insegnato musica, ho insegnato per parecchi anni a Parigi, al Sim, che è una scuola europea di musiche attuali e di jazz. Attualmente do dei masterclass una volta al mese perché ho preferito non vincolarmi troppo con l'insegnamento. Ok, anche perché certo significa star troppo fermi. Quindi magari era più... E invece hai preventivato di cambiare le città o Parigi ormai nel tuo cuore e non... Allora, in realtà, Parigi nel mio cuore, però, diciamo, la vita che faccio lì basta e avanza. Quello che mi porto nel cuore in realtà è la Sardegna. Quindi torno quando mi è possibile, perché non solo perché appunto ci sono i miei cari, ma anche perché ho proprio bisogno, sì, esatto, di questo incontro ogni volta con la natura che mi dà moltissima emozione e mi dà tantissimo. Per quanto il profumo di croissant che si sente entrando nella metropolitana di Parigi... Sì, però vuoi mettere col profumo di Ginevra... No, no, hai ragione, hai ragione. Senti, la notte che le sindette è finita, vedi che è andata una via veloce. Ti ho chiesto, penso un po' tutto, le mie curiosità, insomma, me le date tutte. Ti auguro che il progetto discografico vada bene. Grazie. E che ti possa venire anche in Stranina, non so, magari anche con un concerto, perché sei stata anche a Oristano, forse l'anno scorso? Sì, ho fatto diversi concerti. Sì, ho fatto diversi concerti, lo scorso anno per Dromos, per cui c'è stato un concerto anche molto carino alla chiesa di San Domenico, perché il teatro era chiuso per il comune di Oristano, insomma, ci sono state le occasioni e spero ce ne saranno altre. Dai, speriamo allora tu possa tornare di nuovo, insomma. Con piacere. Allora, Valentina, abbiamo chiuso, la nostra intervista finisce qua, ti ringrazio, ringrazio Daniele Rosano in regia, i fratelli Leggeri per l'ospitalità nello showroom Feb al Casa, siamo restano in zona Città Giardino, scriveteci se avete le vostre storie da raccontare, continuate a seguirci e grazie, alla prossima. Ciao! 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 Grazie a tutti.